A Sulmone il danneggiato sono io, dovrei essere io al massimo acquererare quelli che mi hanno offeso. Continuo il braccio di ferro tra Povia e la città. In un nuovo video postarò su profilo Facebook, l'artista non ci sta a passare per diffamatore. Mi rende triste chiarirlo ancora dopo aver letto che stanno valutando addirittura l'ipotesi diffamazione. Sono una persona per bene, non merito annullamenti di concerti per motivi inesistenti o ideologici che reprimono democrazia e libertà, scrive Povia, che chiarisce di non aver usato la parola mafiosi, anche se quegli atteggiamenti di cui parlava sono proprio quelli. Sorrido leggendo che l'ufficio legale del comune sta valutando se il mio video precedente contenga profili diffamatori pure e che ci sia anche magari qualcuno che stia valutando la famosa class action. Cioè chiunque mastichi un minimo di italiano e non sia in malafede ha perfettamente compreso il senso del mio video precedente. Gli atteggiamenti mafiosi, mafiosi, a cui mi riferisco, sono chiaramente quelli che mettono in pratica questi cavolo di hater, i quali con insulti e denigrazioni varie sui social cercano di mettere in cattiva luce me e il mio concerto, che però non hanno mai visto. Ho perso sul piano d'immagine ed economico perché avevo rinunciato a un concerto in Puglia per venire a Sulmona. Al massimo dovrei querelarvi io, continua Povia. Insomma, amore e odio, tutto il contrario di tutto. Prima ipotizza la controquerela, poi l'appello a fare la pace. Quindi avrei tutto il diritto io di rivolgermi al mio legale perché ci ho perso in immagine tanto e poi anche insomma in soldini perché vorrei fare questo per mestiere. Ma noi tutti non amiamo le ingiustizie, noi amiamo la pace. Lo sapete voi della giunta, lo sapete, lo sa lei il sindaco, lo sanno i cittadini. Noi amiamo veramente la democrazia, la libertà di espressione e il dialogo. Quindi potreste valutare una cosa molto bella per tutti, riconfermare il concerto del 6 luglio. Sarebbe veramente una bella dimostrazione di affetto e di pace. Così magari ci stringiamo la mano, va bene?